Come è possibile che pochi mesi di lezione da Marcello del Monaco, cioè molto probabilmente lei aveva già comunque una voce importante e quasi pronta perché pochissimi… Sì, però questi vocalizzi che non vanno bene per tutti, meglio dirlo questo, vanno bene solamente per le voci che non sono sviluppate e che hanno bisogno di avere volume. Con questi vocalizzi si forma il volume vocale. Però bisogna stare molto attenti perché se uno abusa di questo perde gli acuti. Ma non può stare anche la persona a capire… Certo.